Il 19 marzo del 94, a soli 36 anni, Don Peppe Diana fu assassinato nella chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe in un agguato camorristico in risposta al suo impegno quotidiano contro la criminalità organizzata. Memorabile il suo scritto Per amore del mio popolo, diffuso nel Natale del 91 a tutte le chiese del territorio. Un'iniziativa per commemorare la figura di Don Peppe Diana si è tenuta nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino con gli interventi di Don Tonino Palmese, Giulio Baffi, Livio Varriale, Giuseppina Scognamiglio, Diego Guida e gli assessori Nino Daniele e Alessandra Clemente.